Ola amico su Foncelo Poviccio, buonasera io sono Zedino e questo è il mio canale, oggi siamo qui con un appuntamento su Minecraft moddato o quello che è, non lo so cos'è ma comunque Minecraft non è Minecraft normale, non è la normalità della normalezza della normale giornata del solito, solitamente solità Siamo al secondo appuntamento ragazzi, scusatemi se ve lo sto portando dopo un po' di giorni ma purtroppo tra live, video che devo anche portare sul canale Nuovi eventi su Dragonsang, un casino di roba, ovviamente scusatemi per il ritardo, ovviamente vi ricordo stasera dalle 18 in poi fino a stanchezza c'è la live sul canale di Luke Mi raccomando vi metto il link sotto in descrizione e nei commenti del canale di Luke Alle 18 pronti per la live ragazzi, voglio prontissimi sia su Youtube che su Hitbox, mi raccomando possiamo partire subito e via! Allora ragazzi, ho fatto un po' di cosette, un po' di cosette nuove a casuccia, come possiamo vedere ho ampliato un po' diciamo la nostra casa Togliamo un attimo il waypoint Ragazzi mi dite come faccio a hopparmi, hop, hop, da, hop, non lo so cosa, come si chiama, come si dice, cosa vuol dire Per permettermi di teletrasportarmi, perché non sapete, ma io off camera sono morto tipo sulle 35 volte per tornare a casa Perché c'era anche un vortice di merda che mi prendeva, mi trascinava in aria e mi sbatteva per terra e mi faceva spiattolare per terra Comunque, ho fatto qui, ho fatto il lettino, ho fatto questa bella sediolina quando saremo un po' stanchi, ci potremo sedere senza dormire Ho riempito un po' di robetta, sono andato, ho trovato un paio di dungeon, delle ferrovie, ho trovato un po' di roba Ho preso un bel po' di materiali, così patapim patapun, cia cia, ho preso altri po' di materiali, un po' di diamantini, tanta redstone e così via e così via Qui c'è il generatore, non so se l'abbiamo fatto nella scorsa puntata, qui c'è un blocco d'acqua che lo dovremmo rendere, no, c'è un blocco d'acqua, così giusto per Ho fatto la tinker, ho fatto la tinker, dovrebbe chiamarsi tinker, sì Qua poi andremo ad ampliare anche qua dietro, questo va bene così, sì, perché poi lo chiuderemo questo qui e metteremo soltanto disponibile Questa parte qui per ovviamente metterci dentro, no, gli oggetti, scherzavo, soltanto per metterci dentro la roba E poi quella lì faremo un po' di tubi cercando di poi portarli, tipo smistamento e portarli al centro, al centro, al soggiorno diciamo Alla base, qui c'è questo coso di lava, non so, vabbè, sì, questo qui Allora, qui ci sono 350 trilioni di miliardi di trilioni di materiali che andremo a smeltare Allora, ci serve, visto che, visto che non trasporta niente qui dentro e ovviamente ho bisogno anche di mettere il tubo di cialopper Di spostarlo lì, adesso sono tranquilli, poi sistemeremo tutto, un po' di parkour giusto per riscaldarci Allora, prima mattina, ho fatto apposta così Facciamo, facciamo la branch, mi sembra, quella specie di branch Che sarebbe questa qui, voglio fare questa Che ci serve il team Ignot Sangda che dà Maranch Che ci serve lo stesso, è un casino che dobbiamo per forza fare Perfetto, allora, facciamo questa branch o questa Crash Hammer Io farei la Crash Hammer, ragazzi Facciamo il team Ignot, che mi sa che ce ne ho, ne ho fatto, ne ho fatto a caso, a caso ne ho fatto qualche d'uno Adesso un attimo Uhuhu, a occhio, ne ho fatti contro occhio senza saperlo, che figo Ok, ragazzi, ok, facciamo la Hammer Brand Spreads, che non ricordo mai come si chiama Perché dobbiamo spostare questo Lo dobbiamo spostare il tubicino sotto, così sposta, no Sposta i materiali quando vengono smeltati, li sposta lì, sotto all'hopper e poi vanno nella chest Quanto son bravo Mentre poi dobbiamo mettere un altro hopper qui e dobbiamo spostarlo dentro lì Così quando mettiamo i materiali qui dentro, come potete vedere, li sposta direttamente dentro la tinca, nella bacinella Adesso sta facendo, sta facendo un po' di ore, sta facendo l'oro Mettiamo questo e il tin a fianco Così ci farà sia un po' di bronzo, a verso la fine, spero Che ci serve anche il bronzo, ecco perché Allora, spostiamo questo qua Ok, 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 ok Poi, quindi, qui, verserà un attimo Verserà un cazzarola di niente Perché ci versa soltanto il liquido Ahhhh, aspetta, blocca tutto, blog Ah no, vabbè, vabbè, tanto non esce niente perché non c'è la tavoletta Ok, ok, ributta tutto dentro, ributta tutto dentro Allora, un attimo, un attimo soltanto Come si fa il tavolino? Non ricordo come si fa il tavolino, ffega Come si faceva il tavolino? Il libricino dello smelting, eccolo qui Allora, casting Come si fa il casting? Noi andiamo a cantare, andiamo a fare i provini del casting E poi loro ci accettano se siamo bravi Ma questo è un altro tipo di casting? Ah, così Ok, dovrei avercelo Dovrei aver fatto un po' più di blocchi di questi qua 2, 3, 4, 5, 6, 7 Facciamoli perché non mi... Ah, quella cosa serviva? Ah, questo qui serviva in caso dovessimo svuotare la tank Esatto, 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 esatto Quindi dobbiamo metterlo dall'altra parte Questo lo mettiamo qui Mettiamo un po' di gold e facciamo la sana pianta Che non ci serve assolutamente a niente questo Porca miseria Mettiamoci un lingotto Ok Metti il lingotto sopra E ci facciamo questo Così poi possiamo svuotare tutto Dobbiamo fare il click, ragazzi Il clock, il click, come si chiama Che fa da solo Chi fa da sé fa 2 e 3 Chi fa da solo la tank Chi fa tutti i blocchi per sé Che bello sto bug Che figo Facciamo prima il bronzo E poi mettiamo tutto a cuocere così alla random Ok? Oh mio Dio, paura Oh paura Allora facciamo il click Il clock, la Come si chiama Clock, click Eccolo qua Dovrebbe essere facile farlo Infatti Stone E la redstone Allora Redstone dobbiamo avercela Esatto Prendiamone un paio Non si sa mai Prendiamo questi qui Li finiamo Quindi cominciamo a fare la torcia La torcia di redstone E ce l'abbiamo Poi Dovrei aver messo a cuocere Tempo fa Della pietra E invece No Assolutamente no Mettiamo a cuocere un po' di pietra Tu Vaffaculo No il copper Non buttare via il copper Che quello è portatissimo Qui abbiamo tanto copper Ma dove cavolo è uscito tutto quel copper? Chi lo sa Vabbè Mettiamolo qui Dove stanno tutti i materiali Ok 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 Quaci un po' Ne servono Ne servono sei No Ne servono quattro Quindi Altri due Mi raccomando Quindi facciamo il clock Poi dobbiamo fare la leva Che non ricordo adesso Come si fa la leva Mi sa che si fa Così E poi un pezzo di pietra Che sta cuocendo tutto Un attimino Non ti disturbo Eccolo Qua la leva Ok Ok Tre e quattro Allora Facciamo Un due Tre e quattro Questo a fianco E mi sa l'altra redstone Torno Sì esatto Redstone dovrebbe stare qui Tre Andiamo qui E mettiamo questi così Perfetto Abbiamo tutto Abbiamo tutto Adesso possiamo andare a mettere il clock qui Innanzitutto Inizialmente E fare così No Aspetta Ah no 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 Scusatemi No Un attimo Ok Non cadere giù Non cadere giù Questo va qua Bang baby Bang baby E quando è che non ci serve Chiudiamolo Spegniamo Facendo al contrario Allora Adesso Facciamo finire di cuocere questa robetta E poi ci mettiamo Tre di copper mi sembra E una di tin Ho tre di tin E una di copper Poi 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 Dobbiamo allargare questo Come dicevo Questo lo mettiamo Dove lo mettiamo? Forse sarebbe meglio Però inizialmente è meglio fare Mettiamolo Lasciamolo qua così a occhio Poi vediamo un po' di sistemare Allora se c'è il copper Se noi ci mettessimo il tin Farebbe direttamente O non lo so Poi vediamo Che dobbiamo fare ragazzi Che dobbiamo fare A parte quello Allora Generatori ce li abbiamo Io direi di scavare un po' Di trovare Ma i materiali ne abbiamo già a bizzeffe Facciamoci Facciamoci Innanzitutto aggiustiamo qui questa cosa Perché è oscena proprio I tubi I pipe I pipe Come si fanno quei tubici Ancora devono cuocere Questi cosi One E allora 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 Come facciamo Ah Devono cuocere Perché è finita ovviamente La lava Bravo Allora ragazzi Un attimo che mi sono Mi sono un po' perso Ovviamente scrivetemi sotto Nei commenti Costruzioni Cose da fare Come farle Dove mettere Così per Diciamo Adeguarmi un po' Alla situazione Perché io non so assolutamente Una cazzarola di nulla Lo stampo Mamma mia L'intelligenza Portami via Allora Achievement Yes Oh yeah baby Oh yeah Stiamo per farci lo stampo Della rondella Però basta stampi Figa Uno solo T'ho chiesto Vabbè 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 Facciamo così Guardate Bam Bam Baby Oh tu quanto Ti ne sono andato a trovare Non pensavo così tanto One Boom Baby Quanto brozzo Che mi stai facendo Mamma mia Non lo so se questi qua In grave loro Ce lo fa La team Poi dobbiamo fare Come Oh 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 E' un infarto Ok Facciamo vita di niente Ma perché tutti questi rumori Basta Che cavolo Dai non ho l'iron Doppio Doppio generator Doppio generator Ah eccole qua le chest Ah è semplice Ah Apri Fress Prats Che cazzarola è Ah quella delle api Oh c'è quella Crystal chest Ragazzi White Ma che cazzarola è sta cosa Che schifo E' tipo un hopper No un hopper Un barrel Ah ci va solo la terra Che schifo E ci facciamo del taranto Dai perché no Taranto Taranto lì Taranto lì Parabari Paripapì Ok Ma si dai Riempiamoci tutto Riempiamoci tutti Dai facciamoci Il cappellino No Ohi Ohi Calma zio Il cappellino E le scarpette di blu Guarda che fighe che siamo Guarda Guardate quanto siamo fighe Ah ah Mamma mia Che figaggine Ma tosi I scheletri mi stanno rompendo le palle Dove siete Oh Mamma mia Sangue Perché d'amarangio Guarda quanti scheletri Parti di scheletri E neanche mi hanno invitato Oh le mini chest Che what the fuck sono Ah 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 Io comunque direi Che l'appuntamento per oggi Può finire qua Ah 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 Se il video vi è piaciuto Evite a mettere un bel ecco al video Iscrivetevi al canale Se ancora lo avete fatto Commentate qui sotto Con suggerimenti Aiutandomi per favore Perché non ci sto capendo Assolutamente Una mazza E come sempre ragazzi Ci vediamo Al prossimo Appuntamento ovviamente Ciao belli